Io che ho parlato di etica, sono d'accordo commerciale, eccetera, eccetera, io non accetto che ci sia un'impostazione di questa natura, e cioè che non è vero che sono soldi del singolo individuo che vengono messi. C'è sempre qualcuno che paga, per cortesia, ma non è così, chi mette soldi ha comunque un tornaconto, o economico, o perché poi diventa un deputato, o un senatore, o un presidente, per carità, c'è una ricaduta di carattere economico, per cortesia, allora divento io un pochino più economico.